l'eterna storia del dottore che dà vita alla creatura. Nelle intenzioni del regista questa versione dovrebbe essere la più aderente al testo della scrittrice inglese. È vero infatti che ci sono episodi inediti. Branagh privilegia gli aspetti horror, corpi distrutti, ricuciti, rispetto alla chiave sentimentale. De Nero eccessivo. Prodotto da Coppola.